Bene, io direi a questo punto abbiamo ancora un pochino di tempo e comunque sicuramente è lo spazio necessario per dare la parola a Claudio, protagonista, al quale dobbiamo questo grande lavoro. Parlo senza mascherina, non perché sia un seguace di Salvini, ma per una migliore ricezione e comincerò con una serie di doverosi ringraziamenti. Claudio apri il microfono, apri il... Comincerò con una serie, non senti Alberto? Devi, non lo so, non lo so, ma penso che non hai aperto... Si sente Claudio, ma devi aprire il microfono sul computer. Ah, è aperto già. No. Perché a noi ripari chiuso, va bene, comunque ti sentiamo. Mi sentite tutti? Sì, sì. Allora, vorrei cominciare con una serie di doverosi ringraziamenti all'Università di Cagnari, al Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, in cui ho vissuto una parte molto più importante della mia vita universitaria, per il supporto scientifico e il concorso alla pubblicazione di questa ricerca. E naturalmente sono molto grato alla Fondazione Gramsci, al Centro per la Riforma dello Stato e alla Fondazione Basso, per aver promosso questa fondazione, questa presentazione, e alla Fondazione Gramsci per aver sostenuto con molta convinzione questa ricerca nell'ambito di un progetto più vasto, ne accennava Albertina, sulla nuova generazione antifascista degli anni 30, che avrà, posso anticiparlo, in parte l'ho già detto Albertina, tra le sue prime pubblicazioni, le lettere dal carcere di Lucio Lombardo Radice, che aggiungerà un tassello alla storia di cui abbiamo discusso questa sera e all'edizione critica del doppio diario di Jaime Pintor, un'edizione critica che si attende ormai da molti anni, ma vorrei anche estendere il mio ringraziamento alla casa editrice Viella, per aver accolto questo progetto editoriale e avergli dato una veste grafica che a me sembra pregevole, dimostrando grande sensibilità, professionalità e spirito di collaborazione nei confronti degli autori. E infine, un ringraziamento per nulla rituale, vorrei anche rivolgere, a coloro che hanno accettato di partecipare a questo incontro e al modo in cui lo hanno fatto, alla loro capacità di entrare nel cuore delle problematiche complesse del libro e nei molteplici piani mi piace molto l'aggettivo poliedrico usato da Alberto Olivetti, in cui queste problematiche sono declinate. Cosicché vi confesserò un certo imbarazzo, perché non vorrei ripetere cose che sono state già dette, come meglio non si potrebbe. E quindi cercherò di sottolineare soltanto, direi, due punti che hanno molto a che fare al rapporto tra la microstoria di questa famiglia antifascista che è stata qui ricostruita e la grande storica. E allora il primo di questi punti è quello, ne accennava Leonardo poco fa, della formazione in Italia a partire dalla seconda metà degli anni 30 di una nuova generazione antifascista che seguirà un percorso autonomo rispetto alle reti organizzate dell'antifascismo, della clandestinità e dell'esilio. E che crescerà invece a contatto diretto con la radicalizzazione totalitaria del regime e il suo prodo imperialistico e bellicistico e con la molecolare disgregazione delle sue basi di massa. E qui veramente i nuclei più acculturati e sensibili dei giovani ne furono il soggetto, forse, più significativo in tutte le varie sfaccettature di quell'esperienza, come sottolineava prima a Leonardo. E poi naturalmente la tragedia della seconda guerra mondiale. Allora, stiamo parlando di una generazione in cui l'incontro con la politica non sarà un dato di partenza, ma un punto di arrivo di complessi e travagliati processi di formazione individuali e di gruppo che seguirono percorsi anche molto diversi. Questi percorsi, tuttavia, avevano in comune, o comunque come punto di approdo, l'idea che bisognasse lasciarsi alle spalle le tradizioni anche liberali dell'Italia prefascista, rappresentata dalla figura di Benedetto Croce e che la futura rivoluzione antifascista avrebbe dovuto approdare, per usare le parole di Vittorio Foa, a una democrazia rinnovata, socialmente avanzata e fondata su una genuina partecipazione delle masse popolari. Il che, non dobbiamo dimenticarlo, avrebbe costituito poi il vero punto di riferimento della resistenza e, se vogliamo, anche del significato più profondo della Costituzione repubblicana. E qui allora si aprirebbe un altro tema centrale, non solo della storia dell'antifascismo, ma io credo della storia d'Italia, e cioè quello dei percorsi tutt'altro che predeterminati attraverso cui si sarebbe realizzato l'incontro nel vivo della resistenza tra la generazione delle carceri e del confino, dell'illegalità e dell'esilio e questa nuova generazione antifascista. Un incontro che sarà parte essenziale della rinascita democratica e civile nell'Italia repubblicana e ha ragione, Alberto, quando sottolinea il ruolo specifico di questa generazione all'interno di questa rinascita democratica e civile, segnatamente della costruzione del Partito Comunista come partito nuovo. Ecco, ma questo potrebbe essere il tema di un'approfondita riflessione a parte. Qui vorrei invece tornare sul processo di formazione di quella generazione che è al centro del libro e in particolare dell'incontro di una parte non piccola di questi giovani con il comunismo nella seconda metà degli anni Trenta, qui appunto rappresentato dal gruppo comunista romano. Si trattava all'inizio di un disagio di tipo esistenziale che passava attraverso il rifiuto dell'omologazione, la ricerca di una cultura libera e non soggetta alla retorica del regime, di spazi di autodeterminazione sottratti al controllo delle organizzazioni fasciste, la condivisione di valori, di esperienze, come per esempio il valore formativo che avrà l'incontro con i giovani ebrei esuli dalla Germania nazista. Solo in seguito tutto ciò si incontrerà con la politica, sotto l'impatto della guerra di Etiopia e soprattutto della guerra di Spagna, con il riconoscimento dell'antitesi tra fascismo e antifascismo, come scontro di civiltà che investiva le sorti dell'Europa e del mondo intero. Peraldo, ma vorrei sottolinearlo, anche per luce Lombardo Radice e per tanti altri, il canale di incontro con la politica sarà l'antifascismo e questo conferirà un contenuto umanistico e universalistico anche all'adesione al comunismo, inteso, sono parole di Lucio Lombardo Radice, come integrale liberazione dell'uomo, anche se questi giovani non avevano letto quasi nulla di Marx, né tantomeno i suoi scritti giovanili. Non sarà quindi un caso la crisi profonda che susciterà il patto Hitler-Stalin nel gruppo romano, ma anche, si potrebbe aggiungere, il trauma della lettura del breve corso e dei primi rapporti con il centro estero del PC nel soggiorno a Parigi, via Donatoli nel 1939. In altre parole, quello che vorrei dire è che si potrebbe definire la terza generazione comunista come una generazione che avrà caratteristiche proprie e diverse, sia da quella dei fondatori del partito, il riferimento è qui la rivoluzione d'ottobre, sia quella della svolta, in cui è centrale il mito della costruzione del socialismo in Urz, e invece nel terzo caso sarà invece l'antifascismo il tramite per l'adesione al comunismo e non viceversa. Vorrei fare solo una breve precisazione su alcune osservazioni di Leonardo a proposito dell'atteggiamento di questi giovani riguardo a quello che nel partito comunista si definiva il lavoro legale nelle organizzazioni di massa del fascismo. Ora, mi pare che questo rifiuto in realtà non sia affatto così netto. Del resto questi giovani erano parte di un gruppo molto più ampio di giovani antifascisti. Aldonatoli a un certo punto lo definisce un gruppo di fronte popolare al cui interno vi erano moltissimi giovani che avevano partecipato all'esperienza dei littoriali e d'altra parte una delle figure me lo insegna Albertino Vittoria che contribuì alla maturazione antifascista di questi giovani fu Antonio Mendola che nel 35 aveva addirittura partecipato ai littoriali allora con grave scandalo o da parte del fratello Giorgio. Quindi non c'è affatto una preclusione ideologica nella partecipazione. Vi è un rifiuto molto netto. Questo sì sull'appello ai fratelli in camicia nera perché viene e secondo me non ha torto individuato anche come dire una grave deviazione dal punto di vista di un'azione antifascista che si richiami a dei valori fondamentali soprattutto in un momento particolare che era quello della guerra civile spagnola che era quello della difesa di Madrid e quant'altro però questo elemento di non preclusione ideologica è evidente anche nei comportamenti pratici pensiamo alla grande manifestazione che si svolge a Roma all'Università di Roma dopo l'Anschluss a cui partecipano tutti insieme giovani che vengano dalle varie componenti di questo gruppo antifascista romano e giovani che invece fanno riferimento all'esperienza del gruppo Zangrandi ecco detto questo naturalmente poi vi sarà l'Università del Carcere il primo incontro con l'altra Italia che aveva il primo incontro collettivo di questi giovani con l'altra Italia che aveva resistito gli operai i braccianti i mezzaldri i contadini gli artigiani che come sappiamo costituono la grande maggioranza dei condannati del Tribunale Speciale e quindi qui si realizza la rottura di storiche barriere di sceto e di classe e la vera e propria scoperta da questi giovani che venivano appunto dalla piccola borghesia colta la scoperta di una nuova umanità che nei collettivi comunisti esercitava la pratica della solidarietà e dell'uguaglianza e anche si sperimenta una forma straordinaria di mutua elevazione politica e culturale in cui tutti imparano dagli altri forse non si è riflettuto abbastanza sul fatto che in questa rottura di barriere di scete di classe nei collettivi carcerari vorrei aggiungere anche nelle colonie di confino sono rintracciabili le prime forme di quelle cellule di una nuova democrazia che si sarebbero riprodotte su vasta scala nel microcosmo delle bande partigiane ecco vengo subito al secondo aspetto su cui brevemente mi vorrei soffermare che è quello che riguarda il sottotitolo del libro storia corale di una famiglia antifascista sulle lettere di Aldo è stato detto già tutto quello che si poteva e si doveva dire sulla sua modo di vivere l'esperienza del carcere ma non è solo la sua io sto lavorando sulle lettere di Luce Lombardo Radice vi è un'analogia assoluta da questo punto di vista insomma vivere l'esperienza del carcere non come un momento di degrado di miserimento ma come un momento fondamentale di crescita personale culturale umana anche politica insomma la conquista di una nuova moralità ecco questa parola moralità è una parola molto diffusa all'interno di questa generazione che sta passando di giovani che sta passando all'antifascismo la troviamo non solo nelle lettere con un significato molto allusivo mi pare che lo notavate voi anche ma anche nelle pubblicazioni in cui una parte di questi giovani scrivono e sono pubblicazioni riviste più o meno non conformiste che si muovono all'interno del regime e poi un'altra osservazione di Leonardo che mi sembrava molto significativa Leonardo si insomma esprimeva sottolineava il fatto che Aldo Medico fosse avesse alle spalle questa grande cultura umanistica ma il discorso è assolutamente trasferibile anche all'esperienza di Lucio Lucio aveva la stessa cultura umanistica che era stata fonte fondamentale del loro passaggio all'antifascismo e anche nelle sue rivocazioni successive si riferì più volte tornò più volte sulla questione che la matematica separata dalle scienze umanistiche era qualcosa di arido era qualcosa che non aveva nessuna rilevanza di tipo conoscitivo e di tipo scientifico quindi anche questa sottofondo di cultura umanistica che potremmo estendere anche ad altri protagonisti gli studenti liceali che vengono dal Visconte e dal Tasso è un altro tratto specifico di questa generazione che dobbiamo sottolineare ma la questione della storia corale è dovuta non già a una scelta prioristica devo dire ma a una fortunata circostanza per certi aspetti straordinari e cioè appunto al ritrovamento nella carta di famiglia di quella scatola istoriata di cui prima parlava Albertino che conteneva non solo le lettere dal carcere di Aldo ma anche le corrispondenze integrali dei familiari e in parte tra i familiari e questa è una parte come dirò brevemente importantissima di questa documentazione e quindi è stato possibile ricostruire non solo il contesto psicologico in cui ciascuna lettera di Aldo è stata scritta ma anche l'impatto della sua vicenda carceraria sull'insieme delle relazioni familiari e qui emerge effettivamente in primo piano una pluralità di altri protagonisti sia Albertina sia Gabriella hanno molto bene vorrei dire mirabilmente tratteggiato la personalità di Mirella io vorrei citare almeno anche la straordinaria figura del fratello Ugo che è un interlocutore fondamentale per le questioni di letteratura di filosofia di musica che costituiva veramente l'humus culturale di questa generazione allora nella cura nel sostegno materiale morale di Aldo i familiari si scontrano continuamente con il carattere liberticita della dittatura fascista con le restrizioni della censura dei regolamenti carcerari con la sorveglianza nei colloqui con le condizioni sempre più pesanti del carcere e l'insicurezza permanente della sorte dei detenuti ecco questo è un altro elemento che emerge praticamente da ogni lettera dei familiari nel quadro appunto di un'istituzione totale che nulla lasciava trasparire di quanto avveniva al proprio interno e allora le lettere dei familiari e tra i familiari ancor più costituiscono una miniera di informazioni sul carcere fascista che non possono essere presenti per la censura ma anche per l'autocensura ne parlava prima Leonardo nelle lettere di Aldo e anche e questo è un altro punto centrale comune anche alle lettere di Lucio Lombardo Radice per il costante ruolo di rassicurazione che egli si riserva dal primo all'ultimo giorno della detenzione ma soprattutto queste lettere ci fanno rivivere un clima psicologico all'inizio personale e familiare ma che assume mano a mano che il carteggio si dipana sullo sfondo della vita quotidiana dell'Italia in guerra da cui emergono tante frammentarie ma significative notizie ecco si parlava delle ansie politiche di Aldo non espresse però sono molto espresse le ansie per i bombardamenti soprattutto quando queste cominciano a colpire massicciamente le città italiane e appunto il carteggio assume a questo punto un'intonazione morale e anche sotterraneamente politica cosicché nel carteggio la dimensione umana ed esistenziale si intreccia con quella etico-politica assumendo le forme appunto di una storia corale di una famiglia antifascista nella crisi finale del regime e poi mi sia consentito ricordare un'altra fonte imprescindibile che ho potuto utilizzare solo in modo parziale che è costituito dalle lettere scambiate tra Aldo e Mirella nel 37-39 nella fase precedente l'esperienza carceraria e allora queste lettere costituiscono a me pare una parte essenziale di quello che si prolungherà e si arricchirà negli anni del carcere ma di quello che mi piace definire un romanzo di formazione e che con grande gioia trovo riscontrato nella lettura non solo che ha fatto Alberto ma della lettura che ha fatto anche una mia collega di filosofia di Cagliari che ha intitolato la sua recensione a questo libro un Bildungsroman e ha sviluppato secondo me magistralmente questo aspetto concludo non posso concludere questo intervento senza accennare ad un altro grande privilegio che ho avuto in sorte nella fase di progettazione e di costruzione del libro e cioè il privilegio di lavorare a stretto contatto con Enzo Collotti che è il grande storico che tutti conosciamo e che ha formato svariate generazioni di storici italiani tra cui la mia ma che qui figura anche come protagonista non solo per la bellissima testimonianza qui pubblicata ma nella sua vita di bambino alle soglie dell'adorscenza insieme con le sorelle Giuliana e Clelia e che è presente con le sue lettere e i suoi disegni in un dialogo da pari a pari con lo zio già compagno di giochi e ora incarcerato lavorare e affrontare insieme a Enzo questa lunga e molto laboriosa impresa è stata un'esperienza preziosa non solo per il soccorso di tanti ricordi familiari ma anche soprattutto per la frequentazione e il confronto con un grande maestro con la vastità delle sue conoscenze e con la sua generosità e disponibilità a intraprendere percorsi di ricerca nuovi o non ancora sperimentati ringrazio di nuovo tutti i relatori e ringrazio anche coloro che ci hanno ascoltato grazie grazie a te Claudio per per queste tue toccanti parole conclusive aggiungo un altro ringraziamento e un saluto di Cecilia Palombelli che è dovuta andare via poco fa e che però mi pregava insomma di riportare a tutti quanti voi il suo saluto e ringraziamenti dalla parte della casa editrice che così si sta impegnando proprio come ci racconta Claudio anche con queste pubblicazioni molto fine molto molto eleganti grazie ancora e grazie soprattutto ancora a Claudio per questo grande lavoro e il prosieguo con le lettere di Lucio Lombardo Radice e altri progetti che hai in mente e ancora un ringraziamento a tutti quanti voi alla fondazione Gramsci che ci che vi ha ospitato e che ha fatto questa questa diretta e a quanti ci hanno seguito bene direi che possiamo chiudere a questo punto arrivederci grazie grazie arrivederci grazie a tutti